Buonasera a tutti, eccoci qui! Ciao, ciao ragazzi! Come sono felice di essere qui insieme a voi questa sera! La schiena, line archi, e poi fai avanti e indietro, molto easy! Questo è il twerk! Ecco spiegato il twerk, la regina del twerk! Siete pronti ragazzi? Dai, iniziamo a scaldarci! Chi può fare questi esercizi? Li possono fare tutti, insomma è aperto a chiunque! Voi avete deciso di sfidarvi proprio così, a colpi di padelle, cioè nel senso non che vi date le padelle in faccia! No, no, no! Quello spero dirò! Però dico, in cucina! Su ZWebTV avrò più tempo di spiegarli in modo più approfondito, con esempi più divertenti! Anche loro, ovviamente, saranno presenti nei miei TG IG! Ah, ci sono anche i cagnolini? Sì, sì, adesso dormono! Vi darò qualche consiglio inerente sempre al mondo del beauty! Saremo di make-up, di novità, di tendenze, ma anche un po' più su, andremo anche sul farrucco! Domani saremo online! Benvenuti nella ZWebTV Family! Ciao a tutti, buonanotte! Ciao!